Daniele Bennati, vincitore dell'ultima tappa qui a Vienna, quasi non te lo aspettavi neanche te alla vigilia della gara. No, per tutto quello che ho sofferto nei primi giorni non pensavo, però sapevo che quel poco allenamento che avevo fatto l'avevo fatto bene, però certo vincere subito la prima gara, penso che non sia facile per te la dimostrazione che comunque sono un professionista serio. La squadra ha fatto un grande lavoro oggi. Sì, veramente, gli ultimi tre uomini, Viganò e Wagner sono stati eccezionali, questo sarà anche il anno per la quale affronteremo la Vuelta e quindi sono molto felicioso.